Rosario Pingaro, CEO di Convergenza S.P.A. Cosa facciamo noi per la crescita delle nostre risorse? Bene, è possibile. Loro, noi, siamo l'elemento fondamentale per vincere la sfida competitiva in settori estremamente complessi e sfidanti come quello della telecomunicazione ma in generale delle intuitività. Il possibile significa corsi di formazione, significa creare ambienti di lavoro sfidanti e allo stesso tempo stimolanti. Insomma, facciamo il possibile, anche perché vari studi hanno mostrato come un euro investito in formazione ritorna in termini di produttività 40 volte gli stessi a montare investito in strumenti.